Le narrazioni riguardanti le persone famose non rispondono quasi mai a una domanda fondamentale. E dopo? Carrie era stato il fortunato romanzo d'esordio di un giovane scrittore. E dopo? Cosa proporreste al vostro pubblico dopo un primo lavoro abbastanza apprezzato? Una formula simile? O qualcosa di totalmente diverso? Ovviamente non esiste una risposta universalmente giusta, e nemmeno Stephen King ne aveva una. Così si consultò con l'editore Bill Thompson, al quale propose due romanzi. Roddwork, definito come un romanzo serio nell'accezione di dignitoso secondo la critica letteraria. Oppure Second Coming, un romanzo incentrato su un vampiro. Thompson fiutò immediatamente il potenziale bestseller che sarebbe potuto diventare Second Coming. Ma avverti King? Verrai etichettato come uno scrittore horror? Il giovane scrittore rispose ridendo. Non mi importa come mi chiamano finché gli assegni non rimangono scoperti. E fu così che nel 1975 venne pubblicato il romanzo su un vampiro, dal titolo Salem Slot. Esatto, Second Coming venne rinominato perché la moglie Tabita sosteneva sembrasse il titolo di un manuale del sesso, e provvisoriamente diventò Jerusalem Slot, ma gli editori non volevano che venisse scambiato per un libro religioso. Salem Slot era il titolo perfetto per un secondo fenomeno editoriale. Una delle idee che avevo durante quei bevecchi tempi era che potesse essere assolutamente fattibile fondere il mito del vampiro lord del Dracula di Bram Stoker con la narrazione naturalistica di Frank Norris e i fumetti horror dell'AC che amavo da bambino, e tirarne fuori un grande romanzo americano, scrive Stephen King nell'introduzione della ristampa speciale del 2007. La scrittura di Salem Slot iniziò nel 1972, in seguito a riflessioni sui temi di Dracula e a come potessero essere adattati alla visione di un americano del XX secolo. Il romanzo di Stoker affascinava King ed era legato ai suoi trascorsi da insegnante, poiché lo aveva trattato a lezione di fantasy e fantascienza, riscuotendo molto successo tra i ragazzi. Questo evento suscitò meraviglia nel giovane insegnante, che si rese conto di quanto un romanzo così datato fosse ancora interessante per gli studenti. Quando a casa Stephen chiese alla moglie Tabitha come immaginasse un ipotetico ritorno di Dracula nel XX secolo, lei rispose ironicamente. Probabilmente verrebbe rincorso da una yellow cab a Park Avenue e ammazzato, chiudendo la conversazione. Ma King era ormai interessato all'idea del vampiro, continuando a rimuginare nei giorni seguenti. Tabitha aveva ragione sul problema dell'ambientare una storia di vampiri in una metropoli caotica come New York. Ma cosa sarebbe successo se lo sfondo della storia fosse stata una piccola città di campagna? King ripensò un viaggio in macchina attraverso il Vermont di molti anni prima. L'amico con cui viaggiava aveva raccontato la storia di una città di passaggio di cui si diceva che gli abitanti fossero spariti improvvisamente, lasciandola deserta, come la celebre nave fantasma Meri Celeste. Quello era il tipo di cittadina adatta alla storia che King voleva scrivere. E così, tra i ricordi di un vecchio viaggio attraverso l'America, nacque la fittizia Jerusalem Slot, nel Maine. Il libro di Salem Slot, o come venne chiamato in Italia, Le Notti di Salem, si apre con una dedica alla figlia Noemi Rachel King, promesse da mantenere. È una citazione del poeta greco Giorgio Seferis, premio Nobel per la letteratura nel 1963. Il brano scelto da King recita Vecchio amico, che cosa vai cercando? Dopo tanti anni all'estero ritorni, con immagini sorte sotto cieli stranieri, lontanissimi dalla tua terra. Questi versi esprimono la situazione del protagonista Ben Mears. Vecchio abitante di Salem Slot, allontanatosi da anni, è tormentato da un incidente fatale che ha coinvolto la moglie. Ben torna nella città di infanzia per scrivere un libro, e prova sensazioni contrastanti, in un misto di nostalgia dei bei tempi andati e accettazione della cruda realtà del presente. Quale incantesimo credeva di suscitare, ripercorrendo le stesse strade che aveva percorso da ragazzo e ora probabilmente tutte asfaltate, ratrizzate, allargate e piene di lattine di birra seminate dai turisti. La magia era svanita, sia la magia nera sia la magia bianca. Tutto era finito quella sera che aveva perso il controllo della moto e aveva visto piombare su sua moglie Miranda, urlante, quel grosso autocarro giallo dei traslochi, quando l'urlo si era interrotto di colpo. Il protagonista è tentato di andare, viene menzionata da Chamberlain di Kerry come città vicina in cui rifocillarsi e tornare a casa, ma Ben decide di rimanere, attirato dalla vista di casa Marston che rievoca antichi ricordi e suscita emozioni da pelle d'oca. La centralità di casa Marston nella trama è sottolineata dall'autore tramite una citazione al romanzo L'incubo di Hill House di Shirley Jackson, in cui si descrive la casa sulla collina come un edificio eterno, silenzioso, ostile alla vita e alla sanità mentale, come se l'abitazione non fosse già inquietante di per sé, essa è solo l'elemento più caratteristico di una città dalla storia misteriosa. Salem Slot è una cittadina rurale e tranquilla, composta principalmente da anziani e da giovani che attendono il diploma per fuggire. Tutto tranquillo, finché anni prima la gente non ha iniziato a sparire misteriosamente nell'indifferenza del paesino, dando vita a fantasiose leggende riguardanti UFO, sette giovanili, e collera divina causata dall'omonimia tra Jerusalem Slot e la Terra Santa. Un periodo anomalo mai spiegato. Durante la permanenza in città, Ben conosce Susan Norton, l'ettrice più giovane con cui nasce immediatamente un'intesa basata su interessi in comune. I due iniziano a frequentarsi nonostante la contrarietà della madre di Susan, che non vede di buon occhio i contenuti espliciti dei romanzi di Ben, e preferirebbe che la figlia continuasse a uscire col suo ex per poi sposarsi. Chiaramente Susan non è d'accordo, esso offre le pressioni della madre giustificate dal volerle bene, perseverando nella relazione con Ben e invitandolo a casa per presentarlo ai genitori. Una notte, due ragazzini vengono aggrediti. Uno rimane ucciso, mentre l'altro viene ritrovato in pessime condizioni e riceve la diagnosi di anemia perniciosa. Ben collega immediatamente questo caso di cronaca nera al fatto che casa Marston sia nuovamente abitata, riflettendo su come un'abitazione associata a vecchi episodi drammatici possa diventare un vero simbolo del male, sopravvivendo ai suoi inquilini. Il nuovo possessore di casa Marston è un certo Kurt Barlow, giunto da poco in città insieme al suo maggiordomo. Al funerale del bambino ucciso, Ben conosce un insegnante d'inglese di nome Matt, il quale, qualche notte dopo, assisterà alle pessime condizioni di salute del becchino del cimitero, noterà dei segni sul collo e intraprenderà le indagini sul vampiro in città insieme all'amico scrittore. A loro si unirà Jimmy, medico che Matt reputa ad atto ad un caso così inverosimile. Susan non crede ciecamente all'ipotesi dei vampiri, sopraffatta da orrori più terreni come l'ex fidanzato che aggredisce Ben, in cerca di vendetta, e la madre che continua a chiederle di tornare con lui. Dopo vari dialoghi e un colloquio con il prete di Salem Sloth, padre Callahan, decide di recarsi di persona a casa Marston. Prima di entrare, incontra Mark, un bambino appassionato di mostri classici che conosceva la piccola vittima aggredita. L'amico era tornato in forma di vampiro e lo aveva scacciato con una croce. Susan e Mark entrano a casa di Barlow, ottenendo la vampirizzazione della ragazza e la fuga del piccolo che corre a riportare la vicenda al gruppo dei protagonisti. Il gruppo, insieme a padre Callahan, si reca a casa Marston trovando il maggiordomo ucciso per aver lasciato scappare Mark e una irriconoscibile Susan. Ben è costretto a uccidere l'amata con un paletto. Poi il gruppo si divide per correre ad avvisare Matt in ospedale e i genitori di Mark nella loro dimora. Barlow è veloce e giunto a casa di Mark uccide i suoi genitori per poi ricattare padre Callahan usando come ostaggio il bambino. Il prete è costretto a lasciar cadere la croce, bere sangue di vampiro e abbandonare la città, mentre il simbolo del male è stato rinvigorito dalla sua mancanza di fede. Matt muore per un infarto. Jimmy cade da una scala in casa Marston e viene trafitto da dei coltelli. Rimangono Ben e Mark che riescono a uccidere Barlow trovandolo poco prima del tramonto. Il giorno seguente Ben e Mark fuggono dalla città per farvi ritorno un anno dopo, quando danno fuoco a casa Marston distruggendo così il simbolo del male di Salem Slott. Il romanzo è dichiaratamente ispirato a Dracula di Bram Stoker, riprendendone mitologia e passaggi di drama. Il destino di Susan e il suo rapporto con Ben sono speculari a quelli del personaggio di Lucy. Infatti, proprio Ben realizza di trovarsi nella stessa situazione di Arthur, costretto ad uccidere la dolce metà ormai vampirizzata, ricordando le parole di Van Helsing «Dobbiamo attraversare acqua mare prima di raggiungere la dolcezza». Riflettendo sul rapporto tra il proprio romanzo e Dracula, Stephen King sostiene che la visione di Bram Stoker fosse in fin dei conti ottimista perché l'autore era meravigliato dalla tecnologia del proprio tempo. Dracula riesce a mietere una vittima, ma la sua forza oscura non può nulla contro il gruppo di colti uomini di scienza che lo fronteggia. Non è così in Salem's Lot, in cui Barlow uccide la quasi totalità dei protagonisti, più diversi personaggi secondari. King spiega ciò parlando della propria mancanza di fiducia nel progresso tecnologico, che nel XX secolo significa esaurimento delle risorse energetiche e disastri del nucleare. Pur essendo storie molto simili, in Salem's Lot era necessario accentuare l'impatto del male sulle vite dei personaggi. Proprio il concetto di male è un tema cardine di questo romanzo, una tecnica narrativa utilizzata dall'autore e ripresa in altri libri scritti successivamente è quella del grande male sovranaturale che funge da pretesto per lo svolgimento delle vicende. Il pericolo rappresentato dal simbolo del male costringe i personaggi ad interagire, mettersi alla prova, seguire i binari di una trama che metterà in luce il bene e il male più umani presenti nelle vite dei singoli protagonisti. Basti pensare a Susan, innamorata di Ben, ma tormentata da un ex possessivo e violento, Jimmy, che in quanto medico ha smesso di fumare ma tiene ancora un pacchetto di sigarette sul comodino per ricordare a se stesso di essere capace di resistere alla tentazione. Padre Callahan con un passato da alcolista. Viceversa, un personaggio ancora immaturo come il piccolo Mark vive l'esperienza del grande male esterno come un percorso doloroso di crescita. Se inizialmente è un bambino spaventato da paure infantili come i pupazzi raffiguranti personaggi horror, alla fine sperimenta la morte dei suoi genitori e capisce quanto sia necessario combattere la malvagità di Barlow. Un dialogo molto interessante è quello tra Matt e Padre Callahan il quale inizia a riflettere sulla natura del male da un punto di vista teologico. Il prete rivela di essersi interessato all'occulto da giovane e di credere ancora in una chiesa mistica che scaccia il male tramite ostie e potere della benedizione. Ma questo non lo rende cieco di fronte a una verità. Il cristianesimo del ventesimo secolo ha dovuto fare i conti con Freud con la complessità della mente umana e l'esistenza del male con la M minuscola. Se prima bastava un esorcismo per allontanare il grande male ora il piccolo male è parte integrante della mente umana delle dinamiche personali difficile da sradicare. Il dialogo che Stephen King scrive per questi due personaggi è il riassunto di un tema molto dibattuto nella chiesa degli ultimi secoli che ha osteggiato a lungo la psicanalisi di Freud anche a causa delle idee anticlericali di quest'ultimo che lo rendevano ulteriormente scomodo. Un esempio chiaro di ciò fu il pontificato di Pio XII caratterizzato da dichiarazioni ostili ma anche dibattiti su come conciliare la psicanalisi con il cristianesimo o sull'utilità della perizia psichiatrica per distinguere problemi di natura mistica dagli altri. Solo con il tempo la pratica psicanalitica è diventata gradualmente più accettata tra fedeli che si sono interessati a questo campo e figure ecclesiali dalle vedute un po' più ampie i cui esempi emblematici sono Don Gregorio Le Mercier monaco belga che inizio anni 60 introdusse la psicanalisi in convento e Papa Francesco che nel 2017 ha rivelato di essere stato in terapia per un periodo. Tornando al dialogo tra padre Callan e Matt il personaggio del prete non è un semplice strumento di lotta magica al vampiro ma un vero e proprio punto di vista umano sul tema del male punto di vista che interagendo con quello di altri personaggi con una propria caratterizzazione arricchisce la concezione che il lettore stesso ha di ciò che è la malvagità la coralità del romanzo permette di empatizzare con le scelte morali e le sventure di ogni protagonista partendo dal semplice presupposto che un vampiro si agiri per la città. In definitiva non stupisce il successo di questo secondo libro che riuscì a narrare una classica storia horror offrendo al lettore personaggi sfaccettati riflessioni filosofiche e critiche al perbenismo americano. Il mix di questi elementi diede vita ad uno dei lavori più amati dei lettori e dallo stesso King che in alcune occasioni dichiarò di considerarlo il suo preferito. La prima trasposizione di Salem Slott non fu un film ma una miniserie televisiva in due episodi andata in onda sulla CBS il 17 e 24 novembre 1979. Questo però non era nelle intenzioni iniziali della Warner Bros che aveva acquistato i diritti del libro quattro anni prima allo scopo di portarlo sul grande schermo. Il problema era la lunghezza del romanzo troppo esteso e corale per comprimerlo in un'ora e mezza. Diversi sceneggiatori si cimentarono nell'impresa ma ogni nuovo tentativo lasciava la produzione insoddisfatta ma era impossibile arrendersi lasciandosi scappare l'occasione soprattutto dopo il successo del film su Carrie uscito nel 1976. Stephen King dichiarò riguardo era un casino. Ogni regista di Hollywood che avesse mai avuto a che fare con l'horror voleva farlo ma nessuno riusciva a tirare fuori una sceneggiatura. A sbloccare la situazione fu il produttore e vicepresidente Warner Bros Television Richard Kobritz. Kobritz stabilì che il cinema non era il mezzo adatto per una storia così ampia e il progetto diventò una miniserie per la tv. Inoltre scelse come sceneggiatore Paul Monash già produttore del film Carrie. Alcune cose vennero tenute fuori per ragioni di tempo altre perché si trattava della tv ricorda Stephen King. Il mezzo televisivo infatti limitava le possibilità di una narrazione horror eccessivamente cruenta e il network non vedeva di buon occhio le scene inquietanti che coinvolgevano personaggi bambini. Per Kobritz e Monash questa fu una sfida da vincere. In particolar modo quest'ultimo insisteva molto sui buoni risultati ottenuti dalla trasmissione televisiva di Carrie sulla CBS. Il regista scelto da Kobritz fu Toby Hooper famoso nel panorama horror grazie a Non aprite quella porta uscito nel 1974. Il produttore era consapevole di non poter chiedere ad Hooper la stessa intensità horrorifica raggiunta nel suo film ma il motivo per cui lo aveva scelto era un altro. Lo reputava un bravo regista capace di lavorare su una sceneggiatura già definita aggiungendo una propria visione estetica. La miniserie venne girata tra luglio e agosto del 1979. L'attore scelto per interpretare lo scrittore protagonista Ben Mears fu David Soul già noto per la sua interpretazione di Starsky nella serie Starsky Hatch. Il malvagio conte Barlow venne assegnato a Reginalder poiché a Cobritz piaceva la sua performance in L'uomo che sapeva troppo di Hitchcock. Cobritz inoltre decise che Barlow avrebbe dovuto differire rispetto alla versione colta ed elegante del libro richiamando invece la malvagità animalesca di Nosferatu per questo motivo il Barlow della miniserie non parla e al massimo emette qualche verso. Questa fu una delle più evidenti modifiche apportate al romanzo originale la cui trama generale venne comunque rispettata nonostante le semplificazioni. Grazie alle tre ore di durata Toby Hooper pote girare una versione di Salem's Lot dalle atmosfere suggestive in cui la trama avanza più rapidamente rispetto al libro ma in cui non si perdono totalmente i momenti di vita quotidiana i dissapori tra concittadini il timore del giudizio degli altri abitanti. Ci sono molte sequenze in cui si respira tranquillità e si assiste a normali spaccati di vita creando una maggiore tensione quando inaspettatamente iniziano le scene più horror. In due occasioni vediamo Barlow aggredire qualcuno al termine di un litigio fisico dovuto ad un triangolo amoroso rispettando il tema della malvagità sovranaturale nemica di personaggi umani credibili e già tormentati dalle loro piccole disgrazie. Le scene in cui Barlow si palesa sono caratterizzate da inquadrature che ne mettono in risalto la possanza fisica e la sua abitazione sporca e oscura come l'essenza del vampiro. la miniserie venne accolta positivamente venendo riproposta negli anni e diventando un piccolo cult amato e citato Kobritz e Monash avevano vinto. Salem's Lot di Toby Hooper venne anche proposta al mercato europeo tagliando molte scene e venendo trasmessa al cinema come un film di un'ora e mezza solo successivamente venne commercializzata per l'on video nella sua durata integrale con un montaggio che unisse due episodi come se fosse un unico grande film di tre ore. Durante la difficile fase di scrittura della miniserie vennero scartate diverse sceneggiature tra cui quella del regista Larry Cohen. Tempo dopo durante le conversazioni tra Cohen e la Warner Bros su quali film mettere in cantiere si arrivò ad un accordo realizzare un sequel di Salem's Lot. Cohen era entusiasta perché l'unica sua idea sopravvissuta alle successive riscritture era quella di ispirarsi all'nosferatu e in generale non apprezzava del tutto quella trasposizione. Girando un sequel avrebbe potuto raccontare una sua versione di Salem's Lot distaccandosi persino dal romanzo. Fu così che nel 1987 uscì nelle sale a Richard to Salem's Lot. Il film racconta la storia di Joe antropologo americano allontanatosi da tempo per studiare le tribù indigene. Joe viene contattato e convinto a tornare in America per parlare con l'ex moglie delle condizioni di salute del figlio Jeremy il quale rischia di essere portato in un istituto psichiatrico se non seguito da un genitore. Joe accetta di accolire il ragazzo e lo porta con sé a Salem's Lot dove viveva una volta. Già durante il viaggio il rapporto tra i due è conflittuale con Jeremy che assume atteggiamenti inappropriati per sfidare l'autorità paterna ma una volta arrivati in città la situazione si complica ulteriormente. Salem's Lot è abitata da vampiri che pian piano separano i due protagonisti coinvolgendoli nella loro comunità. Il padre Joe viene incaricato di scrivere una bibbia sui vampiri inoltre viene sedotto da una vecchia fiamma che porterà in grembo un figlio di cui è responsabile. Lo scapestrato Jeremy invece fa amicizia con i vampiri dalle sembianze infantili rimanendo affascinato dalla loro eterna giovinezza e iniziando a considerare negativamente l'invecchiamento come fa notare al padre scherzando sull'anziano Van Meere bizzaro nemico dei nazisti che aiuterà Joe e Jeremy ad uccidere i vampiri. Il nemico principale è Axel leader dei vampiri che verrà trafitto da una bandiera americana. Alla fine i tre eroi appiccano un incendio e fuggono dalla città a bordo di uno scuolabus. Come si può intuire questo sequel in realtà è completamente slegato dalle vicende di Salem Sloth con cui condivide solo il nome della cittadina e un protagonista che vi fa ritorno scontrandosi con dei vampiri. Oltretutto le informazioni sul passato della città contraddicono quelle del romanzo. In Salem Sloth ci viene descritta una città in cui si annida un vampiro che successivamente ne genera altri tra gli abitanti. In questo film invece viene raccontata la storia di un gruppo di vampiri giunto in città ai tempi della Mayflower per colonizzarla. In sostanza Cohen semplicemente utilizzò un marchio che gli venne concesso per raccontare una sua personale storia vagamente ispirata al romanzo facendo emergere in primo luogo il proprio stile grottesco e satirico. I vampiri non sono più ripugnanti agenti del caos ma dei conservatori che vogliono mantenere lo status quo metafora dei coloni inglesi che arrivarono in America a bordo della Mayflower. I vampiri parlano di sé come la più antica razza nell'umanità disdegnano il sangue umano che sta diventando sempre meno puro a causa di virus come l'HIV dicono a Joe che la vita da vampiro assicura la stabilità economica e infine il culmine del simbolismo si raggiunge quando appunto il vampiro Axel viene trafitto dalla bandiera americana. Non si trattò di un film privo di qualcosa da dire ma di un'operazione poco riuscita equivoca un sequel che in realtà non lo era e nella cui locandina figurava Barlow totalmente assente nella pellicola considerando anche il tono insolitamente comico per un film horror e delle performance attoriali poco convincenti si può comprendere perché a recente Salem Sloth fu un film poco amato uno di quei sequel non richiesti che rimangono all'ombra del calto originale. Salem Sloth era diventato popolare veniva ristampato e addirittura la BBC Radio ne aveva tratto un radiodramma nel 1995 nel 2004 arrivò dunque il momento del remake tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 era diventata consuetudine produrre remake televisivi di precedenti adattamenti cinematografici dei romanzi di Stephen King Salem Sloth del 2004 costituiva un'eccezione poiché si trattava di una miniserie televisiva remake di un'altra miniserie televisiva la guida del progetto venne affidata al regista Michael Salomon e allo sceneggiatore Peter Filardi l'attore scelto per interpretare Ben fu Rob Lowy mentre Ratger Hauer divenne il nuovo Barlow l'adattamento aderisce molto al romanzo recuperando scene escluse dalla prima miniserie come il dialogo tra padre Callan e Matt ma presenta anche spunti originali la miniserie ci mostra una Salem Sloth meno gotica e più contemporanea in cui si utilizza la tecnologia e si è influenzati dalle mode del proprio tempo la sceneggiatura concede ampio spazio alla caratterizzazione di personaggi principali e secondari accentuando la sensazione di assistere a momenti di vita quotidiana di vari abitanti già presente nella miniserie originale e proprio osservando tanti spaccati di vita ci si rende conto che stavolta i cittadini sono spesso cattivi nei confronti del prossimo rendendo i vampiri semplici complicazioni aggiuntive che portano avanti la trama probabilmente è per questo che si è scelta una rappresentazione dei vampiri più sobria e fedele al romanzo rispetto alla precedente miniserie la componente orrorifica non è la cosa più interessante di questo remake dato che in molti momenti si assiste ad effetti speciali stravaganti e scialberi proposizioni di scene iconiche il punto di forza è la caratterizzazione dei personaggi come dimostrano i flashback sul trama infantile di Ben avvenuto dentro casa Marston inoltre Barlow non è più un moderno uno sferato silenzioso ma un vampiro manipolatore ben vestito che falleva sulle debolezze delle vittime tramite la propria arte oratoria Salem Slot 2004 non venne accolto con eccessivo entusiasmo ma non fu neanche un prodotto particolarmente odiato aveva i suoi pregi raccontava la trama del romanzo ed era semplicemente un lavoro decisamente meno riuscito di quello di Toby Hooper ma a proposito di remake un po' dimenticati avete mai sentito parlare di Salem Slot 2022? Nel 2019 è stato annunciato che il produttore James Wan e lo sceneggiatore Gary Doberman che aveva già lavorato la scrittura di It avrebbero lavorato ad un remake di Salem Slot per il cinema nell'aprile 2020 si è scoperto che Doberman sarebbe stato anche il regista del film avendo già girato Annabelle 3 e non essendo un esordiente nel 2021 è stato addirittura rivelato il cast per poi cominciare a girare in modo da rilasciare il film nel 2022 ma nel 2022 il film non è uscito nessuno ne ha più parlato finché la Warner Bros non ha definitivamente rimandato l'uscita del film al 2023 a causa dei ritardi dovuti alla pandemia e adesso anche il 2023 è finito e non si è saputo quasi nulla il 31 ottobre 2023 è stato dichiarato che il film non sarebbe uscito entro l'anno e che ci toccherà aspettare il futuro rilascio sulla piattaforma streaming Max poi il 2 novembre abbiamo avuto un tweet di Stephen King con le sue lodi al film nessun altro aggiornamento la situazione è decisamente insolita i fan di Salem Slot chiedono insistentemente il film ottenendo al massimo risposte vaghe non avendo altre informazioni bisogna aspettare e quando il film uscirà potremo finalmente confrontarci a riguardo la retrospettiva la retrospettiva finisce qui se hai apprezzato il video iscriviti al canale proverai il primo episodio di questa rubrica su Stephen King e molto altro seguici anche su Instagram di questa rubrica di questa rubrica la retrospettiva la retrospettiva di questa rubrica